buongiorno oggi vi voglio mostrare come si preparano le caramelle a rabarbaro che possono essere utili per la gola e per la posse allora prima di tutto vi serviranno 40 grammi di radice di rabarbaro questa è radice che io ho raccolto dalle mie piante di rabarbaro l'anno scorso e l'ho tagliata a pezzetti e fatta seccare nell'essicatore e per chi non avesse le piante di rabarbaro penso che la vengano anche in ervoristeria poi qui abbiamo 500 600 grammi di acqua può anche darsi che ne serva un pochino di più che metterò a bollire insieme al rabarbaro infine abbiamo a parte 250 grammi di zucchero nel quale io ho già messo 50 grammi di glucosio liquido il glucosio liquido lo metto sempre perché aiuta a mantenere poi la durezza delle caramelle aiuta a far sì che si sciolgano si sciolgano un po meno inoltre fa lavorare meglio lo zucchero fa evitare che si cristallizzi vado a mettere a bollire il mio rabarbaro in un pentolino insieme a tutta l'acqua e poi farò restringere a metà schiaccerò per bene il mio rabarbaro in modo che possa cedere tutto il suo sapore e io l'ho già preparato ecco quello che otteniamo abbiamo qui la polpiglia che vedete io ho schiacciato per bene e questo è il liquido che ho ottenuto ovviamente già un bel po ristretto e che adesso vado a mettere nella mia acqua mi servono sei cucchiai quindi questo vi avanza potete utilizzarlo per la prossima volta e tenetelo in frigo e consumatelo alla svelta questo lo metto ha ancora sul gas siamo arrivati a 160 gradi e io ora vado a versare il mio caramello sul piano di lavoro che ho avuto precedentemente ci ho messo dell'olio di semi che quello che va meglio per per non dare sapore potete anche usare l'olio extravergine di oliva però è facile che lasci un pochino di sapore ovviamente ora avrà lasciato raffreddare un po e poi tagliato a pezzettini come si fa con le solite caramelle quando riuscite a tagliarlo cominciate a segnarlo così ok e poi andrà staccato e potrete mangiare le vostre caramelle se questo video vi è piaciuto mettete mi piace e condividete grazie e buona giornata